La prima battuta che nelle sue intenzioni voleva essere irresistibile è questa, sapete perché gli italiani sono così bassi perché la mamma gli dice non crescete altrimenti se diventate alti dovete andare a lavorare. Questo è uno dei pezzi dello show imbarazzante del sindaco di Berne, il socialista Alexander Schattach. Il primo cittadino si è esibito nel corso di uno show partecipando ad una tournée teatrale comedy club e si è lanciato in questo pezzo di cabaret nel quale prende di mira gli italiani in generale e in particolare i napoletani definiti troppo pigri, troppo indolenti per poter fare più mestieri visto che non riescono a farne nemmeno uno. Non è la prima volta che gli italiani vengono presi di mira in Svizzera, tre anni fa una campagna shock gli italiani furono paragonati a dei arroditori, dei topi che affondavano i denti nel formaggio del canton ticino. Polemica anche in questo caso, è bastato un quarto d'ora di show da parte del sindaco per rovinare la tradizione del partito socialista che è da sempre favorevole all'immigrazione e all'integrazione tra le popolazioni.